Ciao a tutti cari amici e amiche dello scrigno dei segreti tv, grazie per essere ancora in nostra compagnia. Oggi una bellissima notizia, Silvia Raffaele di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta. E' nato il piccolo Lorenzo, il primo figlio di Silvia Raffaele e che per chi non lo ricordasse, Silvia è stata una grande protagonista di Uomini e Donne, prima corteggiatrice e poi tronista. Oggi invece influencer lontana dal mondo della tv è diventata finalmente mamma. Da sei anni infatti Silvia è fidanzata con Andrea Lamantia, lo stesso calciatore per il quale Silvia nel 2015 lasciò il trono offerto da Maria De Filippi. Il piccolo Lorenzo è nato il 14 maggio. Tanti auguri e benvenuto piccolo Lorenzo!